Le persone anziane hanno contribuito a costruire questa città, hanno contribuito a costruire questo paese, farlo diventare un grande paese. Spetta a noi adesso naturalmente mantenerlo e farlo crescere di nuovo. Quindi questo è un impegno sul quale noi stiamo lavorando e devo dire che la collaborazione con tutti gli enti, partendo naturalmente dalla prefettura ad arrivare praticamente al discorso del comparto sanitario, il comparto universitario, ci sta vedendo insieme tutti i commettori per arrivare naturalmente ad avere dei risultati. Finora questo connubio non c'era, questo lavoro di squadra non c'era, questi sono i primi risultati e devo dire che io sono molto soddisfatto di questo perché siccome qualcuno mi chiede vorremmo vedere cosa fa la Regione Lombardia, bene con la Regione Lombardia stiamo lavorando perfettamente in sintonia.